Però, loro si esibiranno in una jam session sulla musica live del nostro Antonio Sorzettone Allora ragazzi però vi voglio un po' più carico, un po' più reattivi, lo rifaccio Allora loro sono bravi ragazzi Ma certo Allora abbiamo le migliori coppie internazionali tra cui anche i campioni del mondo di Cinterbac che vogliamo ricordare Se stavamo parlando fuori prima Per cui Antonio Sorzettone Porter, William Elise, Gregorio Agnetta, Francesco e Carolina Per voi, Giuliano 2015, grazie a tutti 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 Grazie a tutti